si può fare con la stradale? si si tutti i waypoint sono accessibili da asfalto ma ascolta io che non ho il gps non sono pratico con le coordinate come posso fare? posso partecipare? guarda è molto semplice basta che tu inserisci le coordinate così come le trovi scritte su google maps su qualsiasi telefonino e il gioco è fatto grazie a tutti